Nel mondo dei cianafonini, la casa produttrice Elephone ha imparato ad adergersi come alternativa alle produzioni dal nome più risonante, grazie alla creazione di smartphone di buone prestazioni apperse sicuramente ben ottimizzati. È proprio il caso di uno degli ultimi modelli di questo brand cinese, in particolare di Elephone P3000S. Il processore octa-core e la memoria potenziata giustificano il nome P3000S rispetto al precedente modello. L'aspetto estetico di Elephone P3000S ha osservato il nostro primo piccolo senso di disapprovazione. Infatti il design di questo smartphone non segue quelle linee di innovazione che stanno seguendo molti produttori cinesi, ma rimane su strade sicure che non curano tanto la bella resa visiva quanto la praticità e l'ottimizzazione. I materiali di fabbricazione infatti non spiccano per ricercatezza e pregio, con un risultato finale all'insegna del policarbonato. Le dimensioni ufficiali attestano 145x72x8,9 mm che insieme a 149 grammi di peso fanno dell'Elephone P3000S uno smartphone che fa sicuramente sentire la propria presenza. Nel complesso questo aspetto si rivela a favore di una solida presa che previene qualsiasi rischio di scivolamento, a scapito però della possibilità di un comodo utilizzato in una sola mano. La facciata posteriore di questo smartphone si compone di un pannello rimovibile su cui spicca sicuramente la presenza della fotocamera principale che risulta sporgente rispetto al vano in cui è posta la batteria e che quindi fa spessore nella cucina del pannello. Il design della fotocamera è invece un design molto piacevole alla vista che incastona questo comparto in un disco bordato con una cornice rossa metallizzata. All'interno di questo disco, oltre alla camera, è posto il flash led e il lettore di impronti digitali. In generale, oltre alla presenza della buona fotocamera posteriore, quello che viene evidenziato è che quando viene sfilato lo sportello rimovibile posteriore non sempre si incastra perfettamente invece quando viene reinserito. O comunque bisogna fare attenzione a spingere anche sotto la fotocamera e si nota anche come effettivamente la pressione delle dita provoca una leggera flessione nella policarbonato della cover posteriore. Sulla superficie laterale del dispositivo, che appare comunque squadrata e si restringe verso il pannello posteriore, sono posti i tasti di utilizzo standby e volume in color acciaio, mentre in alto troviamo i soliti jack per gli auricolari e per la porta micro sb. In generale troviamo anche la fotocamera secondaria, i sensori di prossimità e luminosità, il lato di notifica e l'altoparlante. In generale esteticamente non colpisce certo per innovazione o grado di ricercatezza, ma sicuramente l'Elephone P3000S risulta uno smartphone molto solido e che dà un senso di robustezza quando lo si dà in mano. Sulla dotazione del display il P3000S non si discosta molto dal modello P3000. Anche in questo caso infatti ci troviamo di fronte allo stesso schermo con diagonale da 5 pollici e risoluzione HD da 1280x720 pixel. Si tratta di una scelta che dà ottimi risultati in ogni condizione e anche se si trova nella stessa fascia a dispositivi con risoluzione full HD non ci sentiamo di condannare questa scelta di Elephone che dimostra anzi di saper calibrare in modo adeguato le caratteristiche del display. La luminosità si è adatta bene a diverse condizioni di luce, naturale e non, anche se non si ha uno spettro di variabilità significativo tra il valore minimo e il valore massimo, per il risultato che comunque consente di avere sempre una buona visibilità. L'intero pannello è inoltre protetto dal Gorilla Glass 3 per una resistenza garantita. A confermare la bontà di questo pannello è sicuramente la marca che dà il nome appunto al display che sarebbe la JDI, un'industria giapponese che appunto si occupa della produzione di display per moltissimi cenofonini e che abbiamo già avuto modo di testare con buonissimi risultati. Una delle più importanti novità di questo smartphone, soprattutto rispetto al modello base da cui erete dal design, è sicuramente la presenza del processore Octa-Core Mediatek MT6592, che si tratta di un processore Octa-Core classico che abbiamo imparato a conoscere su diversi cenofonini e che offre performance di ottimo livello, più o meno superiori a quelle che potreste osservare su un Galaxy S4 o, almeno numericamente se facciamo riferimento a testa al benchmark, simili a quelli di un THL T6 Pro. La frequenza dell'elephone P3000S si spinge fino a 1.7 GHz che si sostanzia con una buona gestione dell'interfaccia UI che risulta molto fluida. Nonostante non sia un processore 64bit, possiamo confermare che anche questo non è un vero e proprio limite. E al tempo stesso la RAM da 2GB è più che adeguata se consideriamo anche la fascia di prezzo in quanto si è risultato questo smartphone. Non abbiamo mai avuto lag dovuti una mancanza di memoria, pur passando da una app all'altra, anche pesante. Buono è il versante memoria da 16GB che consente di avere un ottimo ed ampio spazio di archiviazione senza dover ricorrere necessariamente all'ampliamento tramite microSD. Per riamanti di testa al benchmark possiamo confermarvi che l'elephone P3000S raggiunge circa 32.000 punti su AnTuTu che ci dà indicazioni sulle prestazioni globali e circa 1.000 punti per la componente metal di Vellamo Browser. Questo evidenzia anche come l'upgrade hardware su l'elephone P3000S è stato molto più importante del previsto e al tempo stesso crediamo che possa essere quello capace di ripagare l'assenza di cambiamenti estetici nel cenefonino in questione. Mentre vi mostriamo le prestazioni in ambito navigazione web, nel frattempo vi raccontiamo che come un qualunque cenefonino che si rispetti anche questo non poteva che essere dual sim dual standby che permette appunto di collegare tramite una sim standard e una micro sim due tenze contemporaneamente. Questa possibilità viene meno però nel momento in cui si decisa di usufruire dell'espansione della memoria interna in quanto la seconda sim, quella micro, giace nello stesso slot che compete al posizionamento della micro SD. Si tratta di una scelta compromessa che abbiamo già visto su altri smartphone cinesi e non e che quindi potrebbe rappresentare un limite per chi ha bisogno di tutte e due le cose. In particolare almeno nel nostro caso i 16GB di memoria interna ci sono sembrati più che sufficienti. Un'altra caratteristica molto importante dal punto di vista della navigazione web è anche la presenza dell'antenna LTE 4G per la ricezione della velocità di navigazione massima appunto che però dovete attivare con ogni operatore e in particolare possiamo confermarvi che è presente anche la frequenza 800 MHz e che quindi non si riscontrano particolari problemi di rete né con l'operatore 3 né con gli altri operatori che si trovano qui in Italia. Non mancano ovviamente la connettività NFC e OTG che costituiscono un sicuro punto di valore per Elephone P3000 S. Rimanendo in ambito di prestazioni possiamo confermarvi che nei giochi il comportamento è assolutamente nella media poiché la GPU Mali 450 fa girare fluidamente e senza lag visibili anche i giochi più pesanti. In realtà abbiamo riscontrato che durante i giochi più pesanti come potrebbe essere Dead Trigger 2 a differenza di questo puzzle game che vi stiamo mostrando la riproduzione è stata ottimale mentre se dobbiamo riprodurre dei video full HD molto pesanti qualche piccolo micro lag potrebbe verificarsi. In particolare possiamo dirvi che un po' dipende diciamo dalle capacità dei sviluppatori dei giochi di ottimizzare appunto i loro giochi e un po' ovviamente dipende dal fatto che questo è uno smartphone di fascia medio-bassa. Nonostante questo bisogna dire che comunque la GPU presente su questo chip octa-core si comporta davvero molto bene e siamo riusciti a giocare senza far surriscaldare eccessivamente il dispositivo per oltre 40-45 minuti quindi con un'ottima soddisfazione e con una resa grafica che possiamo farvi vedere appunto in questo momento nei giochi anche più complessi come possono essere Dead Trigger 2 o Real Racing 3. L'esperienza d'uso di questo dispositivo è basata sul sistema operativo Android KitKat 4.4.2 a cui si lega la possibilità di installare invece l'interfaccia MIUI che viene appunto installata direttamente dal negozio al momento dell'acquisto. L'interfaccia base risulta comunque molto gradevole e piacevole nell'utilizzo e nel complesso la personalizzazione di livello standard. In particolare però ci sono diverse funzionalità che vanno sicuramente provate e studiate. Prima di proseguire vorrei appunto chiarire che la maggior parte di queste funzionalità non ha impostazioni tradotte in lingua italiana ma si trovano in lingua inglese anche di semplice incomprensione. In particolare abbiamo il finger scanner, il lettore di impronte digitali che permette non solo di sbloccare il telefono ma anche di guidare la navigazione web o scorrere la galleria tramite il movimento del dito. Oppure anche le screen gesture che appunto prevede un sensore in grado di sbloccare, risvegliare o lanciare determinate app sullo smartphone semplicemente compiendo gesti predefiniti ad esempio 1C per aprire la fotocamera. Ho ancora il flash alert che è una funzionalità molto interessante che permette di attivare il flash quando ricevete un sms oppure se c'è una chiamata in entrata, sostanzialmente una sorta di led di notifica. In questo momento vi facciamo vedere che il sensore di impronte digitali è posto sotto la fotocamera posteriore come abbiamo visto anche quando abbiamo parlato del design e va impostato tramite le varie impostazioni che trovate all'interno del menu. In particolare dobbiamo sottolineare che si possono registrare fino a tre impronte digitali, questo potrebbe essere anche molto comodo per introdurre magari tre volte la stessa impronte in modo di aumentare la probabilità che venga recepita. Tenete conto comunque che anche se ha una buona recettività e il sistema prevede anche la possibilità di inserire un codice segreto qualora lo smartphone non dovesse riconoscere per tre volte il dito. Elephone P3000S monta poi un sensore prodotto da Sony per quanto riguarda la fotocamera e questo implica sicuramente due osservazioni. Una certa affidabilità dovuta comunque ad una qualità minima garantita dalla famosa industria giapponese e dall'altro lato invece una qualità un po' scarsa negli scatti serali come siamo abituati ad osservare su dei ciannafonini. In particolare andando con ordine vi ricordiamo che Elephone P3000S monta un sensore da 13 megapixel con flash led, piuttosto elegante anche come vi abbiamo già raccontato, mentre frontalmente troviamo una fotocamera da 8 megapixel che rappresenta un po' l'evoluzione rispetto al modello precedente e che offre una potenzialità in più davvero effettiva per chi ama scattarsi i selfie. L'applicazione di Android è sicuramente standard, esattamente quella che potete trovare su altri smartphone dotati del sistema operativo di Google e non mancano le impostazioni più comuni come per quelle di selezione degli ISO, il bilanciamento del bianco, le modalità come quella HDR, quella automatica, la panoramica, la notturna che spesso si rivela molto più efficace delle foto notturne con il flash. Per quanto riguarda la qualità degli scatti invece si passa dall'ottima resa in condizioni diurne con una definizione di dettagli molto elevata ad una resa molto più modesta in condizioni notturne o in ambienti con poca luce. Se ad esempio vi piace però effettuare scatti magro a distanza ravvicinata questo smartphone potrà garantirvi ottime soddisfazioni ed in generale per una visione diciamo migliore della qualità delle foto il nostro consiglio è di recarvi sul sito tecnologici.net ed andare a vedere poi la qualità degli scatti in dimensioni originali cliccandoci sopra ognuna di queste. Per quanto riguarda l'autonomia va subito detto che l'ephone P3000S soddisfa la durata di giornaliero di utilizzo medio. Nello specifico il terminale monta una batteria esteribile da 3150 mAh che smbolge in modo più che adeguato il suo dovere superando anche la giornata a seconda del vostro utilizzo. In generale anche se in continua attività di connessione l'autonomia resiste fino alla fine della giornata se utilizzato con due sim di cui una connessa anche al 4G anche se si assistono ad alcuni picchi di discesa della percentuale di batteria quando si utilizzano in modo intensivo alcuni gioco piuttosto pesanti come vi avevamo anche accennato al momento della video recensione dedicata ai giochi. In particolare però va fatto un appunto a quello che succede al momento del caricamento. Infatti ci è capitato che lo smartphone letteralmente è pazzissima mentre è collegato al cavo di alimentazione. In particolare su WhatsApp il sistema smette di ricevere completamente i comandi che gli vengono dati e apre conversazioni in modo autonomo. Questo sembra sicuramente un problema software che verrà risolto crediamo con il prossimo aggiornamento ma vi consigliamo comunque di utilizzare un altro alimentatore per cercare di non incorrere in questo problema. Come accennato in precedenza questo smartphone si pone in fascia media e potete trovarlo a 170 euro su tenideal.com nelle colorazioni bianco o nero. In particolare dovendo tirare le somme dopo questa prova possiamo sicuramente affermare che si tratta di un terminale che si compone di aspetti e prestazioni più che soddisfacenti e pochi diciamo meno convincenti. In particolare il rapporto qualità prezzo è sicuramente bilanciato ed equilibrato e questo è certamente un dispositivo da tenere in considerazione per chi voglia un cenafonino di fascia media e caratteristiche di un certo calibro. Se il video vi è piaciuto vi invitiamo a mettere mi piace. Menzione importante è sicuramente il lettore di impronte digitali e altre funzioni da che abbiamo trovato indubbiamente comode. Dovendo invece scegliere un contro unico sicuramente l'impossibilità di utilizzare contemporaneamente la tecnologia dual sim e l'espansione della memoria tramite microSD. Chiudiamo questa recensione ricordandovi di seguirci sul canale YouTube Redazione Tecnologici e sul sito tecnologici.net. Se vi è piaciuto questo video non mancate di mettere un mi piace al bottone qui sotto. A presto sempre su Tecnologici.net